Castellammare di Stabia, N.A. Al termine dell'allenamento di rifinitura, svolto questa mattina presso lo stadio Romeo Menti, i tecnici Ciro Ferrara e Fabio Caserta hanno reso nota la lista dei N.R. 25 calciatori convocati per il match paganese Juve Stabia, valevole come gara unica dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C, in programma domani, martedì 21 novembre 2017, con inizio alle ore 14.30 presso lo stadio Marcello Torre di Pagani. Portieri Bacci, Branduani e Polverino Difensori Allievi, Bacchini, Crialese, Gaie, Dentice, Morero, Nava e Redolfi Centrocampisti Abua, Calò, Capece, Mastalli, Matute, Viola e Zarcone Attaccanti Berardi, Canotto, Costantini, Dauria, Lisi, Simeri e Streifezza Indisponibile Paponi, Punto Marco Esposito Un'ouxercочка ž